Il fisco è sempre in agguato per un controllo a sorpresa, si sa, ma non è questo il caso. Con un comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate rende noto che in queste ore stanno circolando delle mail provenienti da agenzia.entrate.pec.it, con oggetto verifica tributaria. Si tratta di false mail e di un nuovo episodio di pushing ai danni di imprese e gente comune. Ancora un tentativo di truffa informatica organizzata con l'obiettivo di ottenere illecitamente i dati di società ai cittadini. Le email hanno in allegato un file eseguibile .exe da compilare che può danneggiare il computer. L'Agenzia delle Entrate informa di essere strane a questi messaggi e raccomanda a chiunque dovesse riceverli di cestinarli senza aprire l'allegato che può compromettere la sicurezza del PC. E' più opportuno invece, se ricevete questa mail, contattare la polizia postale che potrà cercare di verificarne la provenienza. Sono ormai piuttosto comuni le truffe online che corono via mail o attraverso subdili virus che si annidano nei computer. E i truffatori chiedono poi un riscatto in soldi per avere i codici per criptare il tutto. Vere e proprie truffe che vanno denunciate. Mai pagare o cedere ai ricatti, come raccomanda la polizia postale, in questo caso anche l'Agenzia delle Entrate.